Alberto Aquilani si appresta a diventare un nuovo giocatore del Pescara. Come anticipato dalla nostra emittente nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi di ieri sera, il forte centrocampista, che ha già l'intesa con la società del presidente Daniele Sebastiani, ha perfezionato l'accordo con lo Sporting di Lisbona per la buona uscita e di conseguenza per liberarsi dal contratto con scadenza giugno 2017 con il club Lusitano. Già domani Aquilani, di rientro dal Portogallo, sarà a Pescara per unirsi al progetto tecnico di Massimo Oddo. Per lui è pronto un contratto biennale dal quale il giocatore potrà liberarsi in caso di retrocessione in Serie B dei Biancazzurri. Con Aquilani, Oddo avrà a disposizione un giocatore fondamentale per la regia del centrocampo, per il quale al momento l'unico giocatore di ruolo è Gaston Brugman. Con Aquilani si alza il tasso tecnico della mediana, oltre che dell'esperienza. 32enne romano, Aquilani è cresciuto facendo la trafila delle giovanili della Roma, squadra con la quale nel 2003 ha debuttato in Serie A. Il centrocampista, dotato di un gran tiro dalla distanza e buona capacità di inserimento, ha indossato il giallo rosso fino al 2009, quando poi si è trasferito in Premier League al Liverpool. Dopo una stagione torna in Italia con i prestiti alla Juventus e al Milan. Nel 2012 lascia T-Reds per legarsi a titolo definitivo alla Fiorentina, dove resta per tre stagioni. Lo scorso anno, dopo essere arrivato a scadenza, ha firmato il contratto a parametro zero con lo Sporting Lisbona, esperienza che si è chiusa anzitempo per iniziare quella con il Delfino. A proposito di Scuola Roma, in giornate il Pescara ha chiuso una operazione in entrata con il club di Pallotta, con l'acquisto dell'attaccante 24enne Stefano Pettinari. Per lui contratto triennale con percentuale alla Roma sul prezzo di futura rivendita. Per Pettinari è un ritorno, avendo indossato in prestito il bianca-azzurro da gennaio a giugno 2015, con due reti segnate nella trasferta di Avellino. Sempre in prestito lo scorso anno, Pettinari ha giocato nella prima parte della stagione a Vicenza e nella seconda a Como, in cadetteria.